ultima puntata di regionando prima di una breve pausa di tre settimane parleremo molto di aree interne e di montagna perché ci sono alcuni provvedimenti interessanti e perché in fondo in questo periodo siamo tutti più pronti a scoprire il nostro territorio anche grazie alle numerose manifestazioni che vi si svolgono le scuole e il consiglio regionale faranno un cammino insieme continueranno a farlo anzi perché il percorso è già avviato da tempo ed è finanziato dall'assemblea toscana buoni anche i risultati del bando rigenerazione toscana con un impegno finanziario di un milione 750 mila euro per iniziative di promozione sociale culturale e di aggregazione rivolte appunto alle nuove generazioni e ai più fragili l'alpinista andrea lanfri è il primo atleta paralimpico ad aver scalato l'evelest e riceve ora un premio dal consiglio regionale ad alice mariani di origine massese nuova prima ballerina della scala di milano viene assegnato il gonfalone d'argento l'europa al centro dell'impegno di davide sassoli a cui è stato intitolato il nuovo media center di palazzo del pegaso e di tutte le assemblee legislative e le regioni d'italia che proprio a firenze hanno fatto il punto sulla conferenza sul futuro dell'europa la fondazione sistema toscana ha un nuovo consiglio di amministrazione che riceve subito l'incoraggiamento e l'elenco degli obiettivi da centrare da parte anche del consiglio torneremo poi a parlare di quello che è accaduto nelle sedute del 26 e 27 luglio in particolare della legge di manutenzione dell'ordinamento regionale oggi vogliamo partire dalle nostre aree interne quelle che più soffrono l'abbandono da parte delle famiglie la diminuzione dei servizi le difficoltà di spostamento ci sono risorse adeguate tra quelle dei fondi comunitari per finanziare nuovi progetti a patto naturalmente che si sia inseriti formalmente nell'elenco delle aree interne c'erano già casentino e valtiberina una garfagnana lunigiana medievale del cerchio appennino pistoiese 2 valdarno val di sieve mugello val bisenzio 3 adesso entrano anche amiata val d'orcia amiata grossetana e colline del fiora poi valdera val di cecina colline metallifere val di merce e infine val di chiana senese nel complesso sono interessati 48 comuni cosa significa che questi territori adesso avranno un tesoretto di risorse da spendere su progetti per la crescita economica e sociale dei rispettivi territori sulla base di priorità che non vengono imposte dall'alto ma che nascono dalle esigenze che le comunità locali ritengono rilevanti per il mantenimento dei servizi e per la creazione appunto di crescita economica e più in generale per la coesione sociale sono circa 8 milioni per area sia da parte statale che regionale e più c'è la possibilità adesso per questi territori di poter concorrere sulla programmazione dei fondi europei in capo alla regione a circa potenzialmente 100 milioni di euro quindi sono risorse davvero molto importante infatti i comuni ce l'hanno chiesto con forza di essere all'interno di questa strategia nazionale e il governo ha recepito la nostra proposta la soddisfazione naturalmente è bipartisan c'è la volontà di creare anche nuove comunità energetiche per ottenere l'energia da fonti rinnovabili in quei territori e poi c'è un'attenzione particolare alla montagna che finalmente dallo Stato riceve risorse adeguate finalmente anche diciamo lo Stato ha capito l'importanza della montagna perché l'Italia ne ha tanta in particolare la Toscana oltre il 50 per cento quindi bisogna fare qualcosa perché se la montagna sta bene sta bene anche la città nel senso che i boschi puliti non bruciano i boschi puliti non non franano quindi giusto avere tutte queste risorse queste risorse andranno ovviamente a bando verranno in primis le unioni dei comuni però anche i singoli comuni montani potranno partecipare quello che noi chiediamo è che ci sia la formazione per la progettazione perché la maggior parte dei comuni non è in grado di fare i bandi nel modo giusto. I consiglieri Nicolai e Bartolini presidente e vicepresidente della commissione condividono la soddisfazione sull'operato della stessa che ha portato ad altri importanti risultati. Non sempre c'è stata l'unanimità come nel caso di questi giorni dell'approvazione delle norme sulle acque minerali, risorgenti e termali ma è evidente la comunanza di obiettivi. Sì politicamente devo dire è positiva perché essendo una commissione istituzionale è un po' diversa dalle altre e quindi si trattano temi specifici sui quali si cerca sempre di trovare diciamo una proposta condivisa. Siamo tutti diciamo persone che abbiamo a cuore i piccoli comuni, la montagna e quindi cerchiamo di capire le esigenze dei territori per poterli aiutare. Sì la nostra commissione nasce per dare voce a territori che troppo spesso magari non hanno avuto voce in passato e su questo la condivisione è molto ampia sempre e io cerco di promuoverla perché penso che più siamo a portare avanti la voce di questi territori e più è forte la Toscana, più è coesa la Toscana e più la nostra regione può andare avanti e su questo non è sensibile solo la maggioranza ma anche le forze di opposizione. Tra i provvedimenti più importanti dell'ultima seduta del Consiglio regionale oltre agli atti di bilancio di cui abbiamo parlato ampiamente con le interviste a tutti i gruppi ce n'è uno tra i più discussi e la legge di manutenzione dell'ordinamento regionale. Qualcuno l'ha definita un cacciavite per aggiustare anomalie, contraddizioni, ripetizioni. Nella commissione c'era stato grande fermento che aveva portato inizialmente ad eliminare dalla proposta i primi otto articoli. Questa legge interviene su altre 15 leggi regionali che toccano vari ambiti tra cui le norme sulla bonifica dei rifiuti e dei siti inquinati, sul servizio sanitario regionale, il testo unico del personale, la legge urbanistica, il codice del commercio. C'è polemica, le opposizioni hanno criticato il fatto che non si sia trattato semplicemente, come invece dovrebbe essere, di un adeguamento tecnico. Noi siamo stati a verificare puntualmente il contenuto della proposta di legge di manutenzione proprio perché riteniamo un appuntamento importante dell'anno. Abbiamo espresso tutte le nostre perplessità per quanto riguarda la parte sanitaria, ma anche per quanto riguarda VAS, via, i procedimenti che si riducono dei tempi quando il personale invece resta sempre lo stesso e ha delle conseguenze tutto questo anche sui procedimenti partecipativi. Su una legge di manutenzione che per chi non è un addetto ai lavori è una legge normalissima in cui si va soltanto ad adeguare la normativa regionale alle normative nazionali ed europee che nel frattempo sono cambiate, il Partito Democratico è riuscito ad andare sotto nei numeri nove volte. Cioè nove volte gli articoli sono saltati perché i consiglieri del Partito Democratico non erano in aula, non perché chissà cosa, perché non erano in aula. Sette volte in commissione, due volte in consiglio regionale, tra cui una volta l'assente era il presidente Gianni che aveva presentato emendamenti e poi non è venuto a presentare in aula e quindi viviamo in questo caos. Dalla maggioranza arriva la replica e le argomentazioni sono più tecniche che politiche. La proposta di legge che è stata presentata in consiglio regionale è il frutto di un'intensa attività della prima commissione del consiglio che tenendo conto di tutti i rilievi formulati e anche dei pareri espressi dalle altre commissioni ha deciso di espungere tutti quegli elementi che all'interno di questa legge presentavano carattere innovativo e non meramente manutentivo per preservare il contenuto della legge a quelle che sono le prescrizioni che riscendono dalla legge istitutiva appunto della legge di manutenzione. Un atto dovuto che il consiglio regionale approva a metà della propria annualità è la norma che ci consente di integrare iniziative che sono previste a livello nazionale con quelle che sono previste a livello regionale. Avendo due livelli di legislazione molte volte capita che nello sviluppare delle leggi servono dei correttivi e in questo caso sono serviti soprattutto per migliorare alcuni aspetti legislativi che torneranno utili alla regione toscana a partire da settembre quando nella ripresa ci sarà da dare delle risposte importanti soprattutto sul caro bollette, sull'inflazione e soprattutto sulla svolta di carattere energetico. Da Capannori in Lucchesia al tetto del mondo, l'Everest la montagna più alta di tutte, l'impresa, l'alpinista paralimpico l'ha compiuta all'alba del 13 maggio. Con questa targa la Toscana adesso chiede ad Andrea Lanfri di portare con sé la prossima volta il Pegaso alato. Premiamo Andrea Lanfri, premiamo il suo coraggio, il suo impegno, la sua passione, raggiungere la vetta del mondo, 8.848 metri e farlo così come ha fatto Andrea è qualcosa di stupendo, dà il segno e manda un messaggio ai ragazzi di crederci sempre, di non mollare mai. È riuscito a trasformare purtroppo la sua malattia in una forza, una forza grande per poter poi reagire e provare a fare quello che anche noi non saremmo in grado di fare. Inz'altro è stata una bellissima, per me una bellissima emozione, un bellissimo corramento di un sogno che è tanti anni che è dentro di me e che coltivavo, quindi diciamo ci sono stati tanti motivi di orgoglio. Per me arrivare su era un segno di rivalza sulla malattia che appunto nel 2015 voleva, come dico sempre, ha tentato di fermarmi più volte. La batosta che potevo dargli era quella di ripartire, diciamo che questa è stata un po' la dimostrazione tangibile che non mi ha mai sconfitto, non mi ha mai battuto e ho sempre vinto. Dallo scalatore alla ballerina, che ballerina dice Mariani? È la nuova etual, prima ballerina della scala, il più prestigioso teatro al mondo per la danza classica. Un po' il segno della Toscana che vogliamo. Una ragazza nata in un piccolo centro, non nel capoluogo di Regione, che grazie all'impegno, alla tenacia, alla fatica, anche ad anni trascorsi all'estero riesce a raggiungere un sogno, perché questo è un sogno per tante ragazze che provano ad emergere. Io sono davvero orgoglioso e mi auguro che Alice possa portare il Pegaso alato sul palcoscenico e possa volare in alto insieme a lui. Partita da Massa quando aveva solo i 13 anni e dopo alcuni anni trascorso in Germania, Alice Mariani ha realizzato il suo sogno vincendo il concorso internazionale indetto dal Teatro di Milano. Per me parlare non è così facile come ballare sul palcoscenico, per me quello è davvero il posto giusto per me dove mi posso esprimere, dove posso emozionarmi. E' stato un percorso travagliato il mio, perché sicuramente ho fatto tanti anni fuori, sono andata via di casa molto presto, avevo 13 anni, quindi ero molto piccola. Sono andata a Milano e poi all'età di 18 anni mi sono trasferita in Germania. Pensavo fosse una piccola esperienza all'estero, invece è durata 10 anni, quindi insomma è stata abbastanza lunga. Però il mio desiderio è sempre stato quello di tornare e quindi l'essere qui oggi nel mio paese, al Teatro alla Scala, con questa nomina di prima ballerina, davvero mi rende una persona affortunatissima e felicissima. Giovani protagonisti nei progetti che coinvolgono le nostre scuole, tutto nasce dal protocollo siglato a inizio anno dal Consiglio regionale e dall'ufficio scolastico regionale. Da settembre partiranno sei nuovi progetti, punteranno a diffondere la conoscenza del funzionamento del Parlamento toscano, nascerà un Innovation Center ad Arezzo in collaborazione con Google, ancora didattica dell'italiano con materiali digitali, mediazione a scuola, infine insieme alla Fondazione dell'Ordine dei giornalisti, il Giornale regionale degli studenti e con la nazione Cronisti in classe. Ci muoviamo attraverso una serie di progetti che riusciamo a realizzare grazie all'attenzione e al contributo intelligente del Consiglio regionale per la Toscana che ha colto questa necessità e l'ha messa a disposizione della scuola. Quindi noi ci troviamo veramente a presentare dei progetti sulla didattica digitale, a presentare dei progetti sulla partecipazione attiva alle istituzioni da parte dei nostri giovani, alla consapevolezza dei giovani per le attività di partecipazione alla vita della scuola, in proiezione della vita poi sociale che dovranno sviluppare e che sviluppano parallelamente. L'altra cosa estremamente importante è che ciascuna iniziativa è fatta insieme a partner altamente qualificati. Era rivolto ai giovani anche il progetto Rigenerazione Toscana. Ecco i risultati. Penso il bando più riuscito del Consiglio regionale. Noi abbiamo stanziato all'inizio quasi 2 milioni di euro per sostenere progetti legati ai giovani, cioè a chi aveva sofferto di più durante la pandemia. Avevamo fatto intorno a 4 linee di intervento ed erano rigenerazioni differenti, rigenerazione sociale, la street art, aggregazione giovanile, i parchi gioco inclusivi. Insomma, quasi 200 comuni della Toscana hanno risposto. Hanno risposto a progetti molto belli e noi li finanziamo tutti. Abbiamo fatto una variazione di bilancio che aumenta queste risorse a 2 milioni e 300 mila euro circa in modo tale da finanziare tutti i progetti e da dare risposte a tutti quei territori della Toscana che ce lo chiedono. Il successo sta proprio in questa condivisione che abbiamo dimostrato sul progetto di Rigenerazione Toscana. Investire, credere nei giovani, specialmente in questo momento così delicato della storia toscana, è un segnale importante. Noi ci abbiamo veramente creduto, abbiamo fatto sì che le amministrazioni comunali fossero adeguatamente messe a conoscenza su progetti in cui abbiamo investito il nostro tempo, le nostre capacità e abbiamo la soddisfazione oggi di vedere questo bando e avere portato circa 2 milioni e 200 mila euro nei territori per iniziative concrete. Fondazione Sistema Toscana ora ha un nuovo consiglio di amministrazione. Questo ente collabora anche con il Consiglio regionale sulla sua digitalizzazione, sul portale inconsiglio.it, sul media center intitolato a Sassoli. La collaborazione poi ha permesso di organizzare le edizioni della Festa della Toscana, la giornata dell'Europa, le celebrazioni per i 700 anni di Dante. Ma è tutta la Toscana naturalmente a beneficiare del rapporto con la Fondazione, dice il Presidente della Giunta. La Fondazione Sistema Toscana è fra gli enti strumentali del governo della Toscana, sicuramente uno dei più rilevanti, ma a me personalmente rappresenta appunto di riferimento indispensabile per un sistema di valori e un sistema di progetti legati a questi valori che ritengo debbano essere trasmessi in Toscana. È una fondazione che, a mio giudizio, deve costituire il perno della identità della Toscana. A proposito di Unione Europea, dopo l'intitolazione a Sassoli del nuovo media center, si è fatto il punto sugli esiti della conferenza sul futuro dell'Europa ed è stato lanciato, sempre nel nome dell'ex Presidente del Parlamento Europeo, il bando per la miglior tesi di laurea sul tema l'Europa, le regioni e i cittadini. Ecco il Presidente della Commissione regionale. Si lega questo, torno all'elemento del premio di laurea, al grande tema che credo ci debba interessare più di ogni altro, al tema dell'Europa e le regioni. E credo che questo tenga un po' tutto insieme, almeno questo è il nostro auspicio. Noi ci fermiamo qui, vi auguriamo buon ferragosto, ci rivedremo il primo settembre. Grazie a tutti.